benvenuti cari amici e care amiche di tutta salute siamo insieme anche questa settimana in questa puntata in cui parleremo della pandemia nei reparti covid di come è stata gestita in particolare proprio qui a rimini allora prima voglio dirvi una piccola premessa quando è iniziata questa trasmissione era il 10 gennaio del 2020 l'idea era quella come poi avete per fortuna imparato bene di parlare con i medici del settore pubblico e privato di salute cure patologie più o meno diffuse progressi scientifici benessere tutto questo con parole semplici perché capire queste cose è importante per tutti nessuno si sarebbe mai immaginato che da lì a un mese il mondo intero sarebbe cambiato per sempre a causa della pandemia la sanità pubblica sarebbe cambiata per sempre e così possiamo parlare di un sistema sanitario prima del covid e di un sistema sanitario dopo il covid sicuramente più tecnologico più integrato tra le varie discipline mediche anche se la pandemia poi ha messo in luce anche le criticità di questo vecchio sistema e ci si è resi conto di come per esempio l'attenzione ad applicare dispositivi di protezione possa evitare un contagio di quanto un medico sia prezioso non tanto e non solo per le sue competenze scientifiche ma anche per quelle umane e di quanto la tecnologia sia importante se usata come supporto per mettersi a servizio di chi ha bisogno a servizio dei pazienti ma anche viceversa i medici così come tutti gli operatori sanitari hanno dovuto forse fare affidamento alla spinta originaria di coscienza che ha una persona che sceglie di fare questi mestieri queste professioni ovvero mettersi a servizio e così loro hanno combattuto per primi un nemico che allora era sconosciuto è stata una rivoluzione fatta di persone e da persone che si sono prese carico di una situazione totalmente inedita pensiamo per esempio ai reparti covid che sono proprio quasi nati letteralmente dalla mattina alla sera e io sono molto contenta di avere qui con me in studio oggi ospite la dottoressa raffaella de giovanni che è primario dell'unità operativa di medicina interna di rimini fino a qualche mese fa lo era dell'ospedale cervesi di cattolica davvero molto contenta dottoressa benvenuta buonasera grazie per l'invito è un piacere per me essere qui con voi stasera spero di poter darvi qualche informazione che vi possa interessare sulla nostra storia credo proprio di sì credo proprio di sì anche perché poi anche la sua storia è quella di un medico che durante la pandemia ha accettato un incarico diciamo impegnativo è che forse non tutti avrebbero avrebbero accettato infatti lei dottoressa de giovanni ha diretto il reparto covid flaminio di rimini quindi è un bel racconto quello che ci farà io la ringrazio di questa domanda perché mi riporta indietro negli ultimi giorni di febbraio primi giorni di marzo del 2020 ero da poco direttore dell'unità operativa di cattolica e ricevo una telefonata dalla direzione generale perché l'allora direttore generale riuniva tutti i direttori della provincia di rimini nel primo pomeriggio in direzione non sapevamo neanche l'argomento faccia conto che potevano essere così mezzogiorno e alle tre ci voleva vedere tutti e siamo arrivati alla direzione generale al colosseo a rimini eravamo tutti i direttori delle unità operative della provincia di rimini e quello che è successo era un'accorata richiesta da parte del direttore della dottoressa perin nella primaria del pronto soccorso di rimini il dottor carlo biagetti responsabile infettivologo della us romagna era una sorta di richiesta d'aiuto relativamente a quello che stava succedendo ma noi eravamo abituati a sentire dei due pazienti mi sembra cinesi dello spavanzani di roma niente di più relativamente alla pandemia sapevamo di uomo ci sembrava lontanissimo e il direttore chiede a tutti gli altri a tutti direttori a tutti noi la disponibilità ad aiutare i colleghi di rimini io sono stata una delle ultime a parlare e in quel momento mi trovavo abbastanza bene dal punto di vista delle risorse umane nel mio reparto cioè avevo tutti i medici a disposizione però non sapevo che cosa saremmo andati a fare e quando è arrivato il mio turno io ho detto io ci provo posso staccarmi io perché i miei colleghi avevano tutti i turni e comunque non sapevo cosa avremmo dovuto fare che cosa fosse questa pandemia cosa fosse il virus non lo sapeva nessuno e ho detto lasci i miei colleghi a cattolica e provo andare io a dar una mano vado dove c'è bisogno esatto è stato una sorta di fuoco romantico proprio mi sono sentita mi sono sentita così proprio una sorta di pulsione ho sentito io non avevo mai fatto esperienze di tipo all'estero in africa queste queste cose qui non avevo mai fatte perché ho sempre pensato che la periferia del mondo può essere a casa nostra o il nostro vicino di casa e mi sembrava un'occasione un'occasione di fare il dottore in tutti i sensi non ho alterato la diciamo l'organizzazione del mio reparto e mi sono proposta io in quel momento lì l'ospedale di Rimini aveva da poco ultimato la costruzione e la sistemazione di due reparti del DEA la parte nuova dell'ospedale il quinto e il sesto piano e il dottor Tonini col dottor Busetti mi hanno affidato la responsabilità di 90 posti letto dico che è stata un'esplosione non ho altri termini per descrivere quello che è successo non solo per quanto riguarda la velocità con cui questi 90 letto si sono riempiti ma per come abbiamo formato l'equip l'equip sono state formate da medici volontari provenienti da tutte le unità operative a vocazione medico internistica diciamo così dell'azienda di Rimini dai cardiologi, dalle pneumologi e dagli infernieri provenienti da tutti i settori dalle malattie infettive, dalla pediatria, dalla psichiatria per cui eravamo un coacervo di persone che ci trovavamo lì dalla sera alla mattina ad aiutare questi pazienti che arrivavano veramente ad ondate con il fortissimo supporto dei responsabili delle malattie infettive e ovviamente degli pneumologi per cui ci siamo trovati dalla sera alla mattina a gestire una cosa che non conoscevamo a mani nude tra l'altro perché non c'erano dispositivi, non c'era veramente nulla possiamo dire letteralmente a mani nude niente, tant'è che dovevamo utilizzare dispositivi con la massima cautela, non potevamo assolutamente sprecarli tant'è che quando ci cambiavamo eravamo costretti, chi faceva la visita era costretto a rimanere per tantissimo tempo con i malati senza la possibilità di uscire perché i dispositivi erano contati c'è la nostra caposala, ci diceva i dispositivi che avevamo a disposizione quel giorno lì ed erano poi quelli e durante la notte avevamo creato una chat di tutti noi che lavoravamo in questi reparti e ricevevamo soprattutto dagli infettivologi informazioni su come trattare i pazienti che arrivavano a quel tempo dalla Lombardia che erano 15 giorni più avanti di noi per cui condividevamo le informazioni la sera attorno alle 10 e mezzo, 11 della sera quando tornavamo a casa per vedere come trattare i pazienti e quindi il giorno dopo ricominciare da capo praticamente a me venivano le idee dalle 5 alle 7 della mattina per cercare anche di organizzarci perché una cosa è arrivare in un reparto dove tutto funziona dove ognuno sa quel che deve fare esatto, è una cosa trovarsi a gestire 90 malati, non so quanti fossimo noi, penso tantissimi provenienti, ognuno con lo suo background, con le sue esperienze devo dire che ognuno di noi ha dato il meglio di sé, sempre chi era avvocato per una cosa aiutava in quel senso chi era avvocato per l'altra in quell'altro senso non ho mai avuto un problema di turni nessuno dei colleghi si è mai tirato indietro mai davanti a una richiesta di fare un'ora in più di fermare una domenica in più, un fine settimana in più Lei dottoressa lo ha citato, ha citato Stefano Busetti volevamo fare un omaggio a lui perché l'azienda OSL della Romagna piange la scomparsa del dottor Busetti abbiamo una fotografia, grazie Mirko Tenti il nostro regista, direttore sanitario dal 2018 al 2020 aveva 59 anni, purtroppo si è spento ieri fu uno dei dirigenti di punta nel processo di unificazione delle aziende romagnole tutti i colleghi lo ricordano come un professionista corretto instancabile, dotato di competenza, autorevolezza e determinazione doti che gli hanno permesso di condurre l'azienda durante le prime drammatiche fasi della pandemia da Covid alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze l'abbraccio fortissimo ovviamente di tutta l'azienda OSL come da questa nota ma anche nostro e anche un ricordo suo, no dottoressa De Giovanni perché avete lavorato a stretto contatto sì sì, io ricordo è chiaro del dottor Busetti prima è stata una forma così provo una sorta di stima ovviamente nei suoi confronti e poi di amicizia che si è così concretizzata durante l'epidemia appunto la pandemia del Covid lui è stato quello che diciamo è stato presente al mio concorso mi ha conferito con il direttore il mio incarico ed è un interlocutore pressoché quotidiano la mattina alle sei, alle sette mentre andava in ospedale per cercare di organizzare l'ospedale sempre presente, sempre risposto questa foto lo ritrae proprio nel suo atteggiamento è proprio lui è lui purtroppo oggi in ospedale c'è la sua camera ardente per cui dopo avrò il piacere di andare a dare l'ultimo saluto come dire era molto vicino a tutti noi operatori insomma la stima e l'affetto da parte mia e da parte di tutti i miei collaboratori amici è forte e unica ecco certo, certo, immaginiamo allora dottoressa torniamo adesso a questa foto gliela voglio far vedere perché lei ci ha raccontato come è stato l'inizio ecco adesso io le faccio rivedere questa foto questa è la foto della fine diciamo della chiusura del reparto covid di Rimini che è stato aperto il 20 agosto ed è stato chiuso un anno fa maggio 2021 le chiedo dopo quello che ci ha raccontato a inizio puntata si è mai pentita di essersi proposta? di aver detto vengo io? mai no no io no a me piace fare mi piacciono provare emozioni nuove cose nuove mi piace aiutare le persone e io sono felice di quello che ho fatto ma felice tutti i giorni di poter fare il mio lavoro quanti pazienti avete ricoverato avete curato dottoressa? allora questa fotografia si riferisce alla chiusura alla seconda ondata seconda e terza ondata qui non eravamo più al quinto o sesto piano DEA ma eravamo al padiglione Flaminio sopra le malattie infettive anche qui abbiamo avuto una sorta di fortuna perché la chirurgia nel mese di luglio si era trasferita da questo reparto al DEA per cui ci trovavamo ad avere un reparto pressoché vuoto e il direttore medico facente funzioni durante quell'estate prevedendo una reacutizzazione della pandemia aveva predisposto questo padiglione Flaminio ad accoglierci per cui questa foto si riferisce non alla prima chiusura del 2020 ma alla chiusura di maggio 2021 durante questa fase ero responsabile di questo reparto che aveva dai 23 ai 33 posti letto di semi intensiva quindi qui il trattamento era più intensivo rispetto al reparto che avevo condotto inizialmente qui abbiamo utilizzato la ventilazione invasiva ai cosiddetti caschi per cui avevamo un trattamento più intensivo e in questa ondata qui noi abbiamo trattato circa mille pazienti ah, un migliaio di pazienti in questa ondata sì, in questa ondata qui ma chi erano i pazienti che arrivavano? in questa ondata? la seconda, erano diversi erano diversi? allora, in questa ondata qui io soprattutto ho trattato pazienti con insufficienza respiratoria grave quelli che ancora ovviamente non erano in rianimazione alcuni purtroppo li abbiamo dovuti mandare pazienti rispetto all'ondata precedente erano più giovani quasi tutti caratterizzati comunque da un grado di obesità non esagerata fumatori e pazienti fragili comorbidi cioè con altre patologie con altre patologie sì tra l'altro lei poi qualche diciamo che è stata la massima espressione del lavoro di squadra questa sì questa volta qui avevamo diciamo abbiamo raccolto un po' i frutti di quanto avevamo provato in occasione della prima ondata quindi sapevo meglio cosa volevo e come mi volevo organizzare avevo le idee molto più chiare anche sulla gestione del reparto e ho richiesto come poi avevo richiesto anche l'altra volta perché anche in questa occasione qui non avevamo medici dedicati cioè i medici che hanno lavorato in reparti creati e non trasformati in reparti covid si sono sempre avvalsi da figure professionali provenienti da altri reparti quindi non abituati a lavorare insieme una sorta di cosiddetti volontari o di medici che facevano doppi turni cioè il primo turno nel reparto di provenienza secondo turno al covid per cui avevo più ben chiaro come avrei organizzato il lavoro durante la seconda ondata dal punto di vista nostro organizzativo e gestionale è andata meglio l'impatto emotivo era ovviamente diverso avevate un po' smaltito dopo lei è tornata a dirigere l'unità operativa di medicina interna a Cattolica prima di venire a fare il primario di Carimini che cosa si è portata a casa da quell'esperienza? Allora l'esperienza oltre l'aspetto umano quello che ho imparato di più ma che continuo a imparare tutti i giorni è la necessità di migliorare il nostro aspetto comunicativo perché la comunicazione è uno degli aspetti più importanti della nostra professione sempre anche il decreto ministeriale l'adatte sulla determinazione anticipata dei trattamenti un articolo bellissimo riporta questo la comunicazione a tutti gli effetti è un momento di cura quello che ho imparato durante il Covid ma che sapevo ma che il Covid ha rafforzato è la difficoltà di comunicazione l'ostacolo creato dal fatto che i familiari non potevano accedere che potevano parlare con noi solo per telefono mi ha fatto capire quanto il distacco sia importante quanto la mancanza del governo sulla situazione da parte dei familiari crei non voglio dire sfiducia crei una sorta di impotenza che si traduce spesso in rapporti comunicativi veramente difficili per cui spero di essere cresciuta perché penso di non finire mai di imparare sotto l'aspetto comunicativo tra l'altro diciamo che ecco non era solo diciamo questa barriera di cui ci sta parlando lei comunicativa era anche visibile una barriera data dalle mascherine sì anche per noi il fatto di essere bardati il fatto di essere tutti coperti di non riuscire proprio a viso aperto a guardarsi in faccia e dirsi le cose questa è una barriera grandissima per la comunicazione pensi che siamo stati primi al Flaminio perché appunto sentivamo questa necessità sono stata la prima e mi sono anche un po' confrontata ovviamente con i referenti del rischio infettivo a fare entrare i familiari almeno per l'estremo saluto una volta nel reparto Covid e ho visto così che i familiari hanno gradito molto questa possibilità di fare ingresso da noi ovviamente era stato un impegno perché ci voleva del personale dedicato a chi veniva a fare visita il personale doveva rimanere lì durante la visita perché sa l'ambiente non era dei più accoglienti però io ho imparato ad avere sempre più insomma a cercare di sensibilizzarmi nei confronti dei pazienti e dei loro familiari l'immagine che le è rimasta più impressa personalmente c'è qualcosa che l'ha colpita più di qualcos'altro in una situazione che già comunque come ha detto lei è esplosa quindi ti colpisce in ogni caso però magari ci sono sempre quelle immagini proprio quelle fotografie che fa la nostra mente che dice io questa cosa non me la scorderò mai sì purtroppo sì una di una signora una giovane signora che in occasione della prima ondata non ha potuto accedere a un trapianto di fegato perché era risultata covid positiva io penso che questo non lo dimenticherò mai non averla potuta aiutare no lei poi dottoressa è stata nominata di lì da quella fotografia a pochi giorni è stata anche nominata il 2 giugno dell'anno scorso Cavaliere della Repubblica anche questa un'onorificenza che è arrivata se ho capito bene come è fatta lei caratterialmente lei dice non ho fatto altro che il mio dovere insomma quello che dovevo fare andava fatto sì è proprio come dice lei diciamo che è arrivata è arrivata una persona che lavora a testa bassa fondamentalmente penso di aver fatto solo e esclusivamente il mio lavoro le dico che quel giorno c'era mio figlio a casa gli ho fatto aprire la busta e l'emozione è stata forte perché firmata dal Presidente della Repubblica è forte è certo è forte insomma non me l'aspettavo non penso neanche di essere degna oppure molti hanno fatto più di me io l'ho ricevuta e altri no quindi non so se me la merito comunque ancora ricordarli che avete visto ancora si commuove ancora si commuove perché quando quando si viene premiati per il proprio lavoro e per quello per cui in qualche modo si è nati perché per fare i medici ci vuole anche una vocazione che comunque non è di tutti e non è per tutti allora dottoressa ancora qui si parla di vaccino sì vaccino no vorrei che ci raccontasse proprio lei che cosa che differenza avete visto proprio voi che eravate dentro il reparto da prima a dopo il vaccino perché è una differenza c'è stata insomma in qualche modo possiamo raccontarla bene spero che non si parli più vaccino sì vaccino no eh ancora qualcuno ecco spero questo vaccino no che non se ne parli che non se ne parli più ho molta fiducia nelle istituzioni e in chi ci governa e quindi penso che il vaccino abbia salvato la vita di molti e stia salvando la vita anche di quelli che sono attualmente ricoverati in ospedale per covid i dati li sapete tutti di quanto la vaccinazione abbia ridotto la mortalità la patologia grave è logico che uno mi dice ma tanta gente continua a morire lo stesso il vaccino è una arma che abbiamo nei confronti di questo virus non dobbiamo ricordare e vorrei approfittare di essere qui oggi di sollecitare tutti a mantenere quelli che sono i corretti comportamenti sempre perché non è che col 31-3 è finita l'emergenza il virus è sparito perché era detto Draghi ecco per cui io sollecito l'utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti chiusi e quelli sovraffollati lavaggio delle mani sempre e il distanziamento che io preferisco chiamare fisico più che sociale è fondamentale anche perché abbiamo visto che si può restare vicini anche con un po' di distanziamento perfetto esatto l'abbiamo imparato esatto per cui il lavaggio delle mani i guanti servono a poco quindi non utilizziamo i guanti indiscriminatamente perché non ci proteggono da nulla come vedete spesso si vedono persone toccare di tutto e di più con i guanti e poi magari lavarseli insomma l'igiene corretta delle mani è la cosa fondamentale la mascherina di distanziamento fisico la vaccinazione quando e a chi ci diranno di farla ecco ecco dottore se questo ci porta all'argomento per il quale abbiamo preparato un servizio perché intanto mentre la nei media la guerra ha sostituito il covid ovviamente è una cosa allucinante che dobbiamo seguire però nella realtà la guerra si è aggiunta al covid si è affiancata al covid non è che lo abbia scalzato come diceva la dottoressa non è che il 31 marzo è finito tutto in Italia si sta partendo con le quarti dosi le quarte dosi di vaccino covid ci si chiede se dopo l'estate dovremmo tutti vaccinarci di nuovo allora in questo servizio vediamo che cosa sappiamo di questa di questa quarta dose fino adesso e poi torniamo insieme con la dottoressa ne parliamo almeno per ora la quarta dose riguarderà solamente anziani e fragili dopo l'annuncio del ministero della salute insieme all'istituto superiore di sanità AIFA e CSS le regioni si preparano a partire con la somministrazione la quarta dose è prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni per gli ospiti delle RSA e per tutte le persone inserite nelle categorie a rischio e che hanno un'età compresa tra i 60 e i 79 anni si legge nelle indicazioni del ministero la dose di richiamo è raccomandata con vaccino mRNA nei dosaggi autorizzati per la dose booster con Pfizer e Moderna purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal primo richiamo sono esclusi al momento i soggetti che hanno contratto il covid dopo la somministrazione della terza dose ma c'è una grande incognita ed è il rischio di un flop della quarta dose lo dimostrerebbero i numeri bassissimi di adesione dei pazienti super fragili che l'hanno già ricevuta la colpa sarebbe della cosiddetta stanchezza da vaccinazione come ammette la stessa agenzia del farmaco troppe le iniezioni vicine ma anche una percezione a basso rischio della malattia in autunno però tutto potrebbe cambiare il ministro speranza ha spiegato che si valuterà se estendere il richiamo anche alle altre fasce d'età le conferme arriveranno solamente con i nuovi studi scientifici anche perché il proliferare di nuove varianti soprattutto con una circolazione del virus che resta elevata può cambiare le regole del gioco diverse altre volte da qui a settembre sembra che la direzione sia quella di richiami annuali per tutti quello che è certo è che la programmazione del prossimo inverno dovrà cominciare molto prima di settembre per evitare altre ondate che porterebbero ad altre vittime e restrizioni Allora siamo tornati in studio con la dottoressa De Giovanni quindi la necessità di una nuova protezione per anziani fragili e over 60 nasce proprio da dati concreti abbiamo sentito anche nel servizio perché dopo alcuni mesi dalla terza dose queste categorie possono rischiare la malattia grave ho qualche dato sono dell'ultimo bollettino mensile dell'Istituto Superiore di Sanità sottolinea come sui 3.798 decessi tra il 2 febbraio e il 6 marzo oltre il 70% sono over 80 e di questi il 50% aveva già fatto anche la dose booster dobbiamo anche dire che per quanto riguarda l'Emilia Romagna la quarta dose dovrebbe interessare circa mezzo milione di persone quindi dottoressa questa protezione se ci vuole ci vuole fondamentalmente ritengo che la protezione sia necessaria e la quarta dose quello che sarà vada fatta per quanto riguarda queste categorie di anziani bisogna tener conto anche della modalità con cui noi dimettiamo i pazienti e codifichiamo le diagnosi di dimissione per cui può essere che gran parte degli over 80 poi siano deceduti per patologie diverse se avessero anche il covid quindi quando i dati andrebbero letti sono questi che lei ha riportato sono dati crudi che andrebbero un attimo concettualizzati è logico che le persone anziane sono più anergiche delle persone giovani e può essere che nel passare del tempo il sistema immunitario sia il proprio sistema immunitario risposto al vaccino si sia esaurito comunque io penso che comunque la quarta dose vada fatta insomma e quanto ci diranno di fare andrà fatto secondo lei dottoressa quando si potrà dire che ne siamo usciti perché io riporto i dati dell'Emilia Romagna anche ieri erano 3000 contagi e 12 morti quando è che i dati ci diranno sicuramente l'estate viviamo col virus allora l'estate giocherà a nostro favore come l'anno scorso e come l'anno prima questo sicuramente dobbiamo vedere queste varianti come si comporteranno solitamente il virus cercherà negli anni di diventare meno virulento e conviveremo con lui per cui diventerà endemico diciamo così però dobbiamo stare a vedere dobbiamo aspettare aspettare l'evoluzione degli eventi anche perché appunto abbiamo citato la guerra c'è anche l'emergenza profughi sono circa 18.000 gli ucraini registrati nel nostro sistema sanitario su circa 20.000 arrivi però è scarso il numero di vaccinati perché sono 10% esatto penso che il nostro sistema sanitario possa soltanto proporre la vaccinazione può invitare insomma i profughi può solo invitarli a vaccinarsi quindi insomma da tenere sotto controllo anche tutta questa situazione certamente continuando ad aiutare chi scappa dalla guerra chi fugge dalla guerra allora dottoressa le faccio vedere uno screenshot di una notizia molto brutta che è uscita negli ultimi giorni e questo medico di medicina generale e dentista Roberto Bonato si chiama 59 anni è finito agli arresti domiciliari per corruzione e falso ideologico in definitiva vendeva green pass falsi si faceva pagare 250 euro un po' meno per gli amici e registrava delle vaccinazioni mai avvenute tra i suoi clienti chiamiamoli così c'erano anche dei medici che cosa pensa lei di questa situazione ecco Rimini green pass a 250 euro arrestato medico di base Novax questa è la Repubblica ecco questa situazione ma guardi posso dire che mi vergogno che un mio collega possa aver fatto una cosa del genere dal punto di vista morale ed etico in primis non ci sono parole non è giustificabile un comportamento così anzi è proprio scandaloso scandaloso per tutta la categoria butta verse discredito su tutta la categoria per lui e per chi si è rivolto a lui soprattutto i medici ecco lei pensava che ci sarebbero stati adesso non sono tantissimi c'è da dire che per fortuna diciamo che i medici hanno fatto per la maggior parte il loro lavoro durante questa pandemia però lei pensava insomma a questa situazione che ci potesse essere questo tipo di casistica allora io penso che questo questi comportamenti siano un epifenomeno cioè siano un pretesto di alcuni comportamenti ecco per cui in una società varia ci sono persone che possono avere dei comportamenti o delle idee diverse che escano un pochettino dal tracciato quelli che magari sono quelli che io chiamo un po' non so se mi posso esporre così i complottisti sono poi i novax c'è una categoria di persone per cui in contesti grandi e vasti ci sono persone di tutti i tipi io me lo giustifico un po' così perché il contesto sanitario penso che siamo più di 5 mila nell'azienda rus romagna o qui no forse 15 mila per cui voglio dire la quantità degli operatori sanitari sono enorme per cui questi comportamenti in base anche alle responsabilità di ciascuno riflettono riflettono la società secondo lei è una decisione giusta la radiazione dall'albo dei medici io la condivido faccio parte del consiglio dell'ordine per cui non posso che condividerla e lei come si è relazionata con i cosiddetti novax o freevax come preferiscono essere quando lavorava in reparto allora prima col convincimento poi purtroppo so che queste persone utilizzano canali è strane un po' a me perché io non utilizzo i social non ho facebook non ho niente e penso che lì fioriscano proprio la divulgazione sia a dei livelli che non posso neanche immaginare divulgazione di fake news peraltro sì esatto divulgazione di notizie proprio sia a tutti i livelli e forse non è filtrata non sia filtrata sicuramente sicuramente poi soprattutto gli anziani che si avvicinano ai social poi purtroppo cadono in queste trappole e non solo gli anziani e non solo perché poi ci sono categorie di persone attorno i cinquantenni che possono influenzare sia i genitori che i figli perché tanto qui eravamo già una diciamo la provincia di Rimini no vax in termini di vaccinazione per bambini gli stessi genitori gli stessi le stesse personaggi oggi non fanno vaccinare nei figli e purtroppo ho visto neanche i genitori lei ha lavorato dottoressa presso le medicine di Riccione Cattolica ha introdotto varie innovazioni organizzative in favore di per esempio una presa in carico sempre più efficace del paziente da gennaio abbiamo detto è primario qui a Rimini quali sono gli obiettivi? la mia unità operativa fa parte del dipartimento nuovo dell'emergenza urgenza il mio capodipartimento è la dottoressa Perin nominata il primo di aprile e in questo dipartimento fanno parte il pronto soccorso di Rimini-Riccione cardiologia Rimini-Riccione medicina interna di Rimini-Riccione cattolica e penso e spero di non dimenticarmi nessun altro in età operativa il nostro mandato è un mandato di risposta forte soprattutto per quanto riguarda l'ingresso in ospedale quindi il pronto soccorso all'utenza che si rivolge appunto all'ospedale e d'altra parte l'altra parte veramente fondamentale del nostro mandato è quello dell'inforte integrazione ospedale-territorio a questo proposito sono stata nominata dal capodipartimento referente per i rapporti col territorio questo perché con il nuovo decreto ministeriale 71 la bozza è uscita poco fa si dà molta spinta a quello che è l'attività socioassistenziale e sanitaria del territorio per cui la forte integrazione ospedale-territorio diventa fondamentale per tutta l'attività in primis perché l'ospedale rappresenta una sorta di passaggio del paziente la sua ubicazione naturale e il territorio e la sua casa e io credo molto al fatto che il paziente debba essere curato a casa propria già da tempo mi piace soprattutto per le dimissioni difficili coinvolgere tutti gli operatori coinvolti anche sul territorio e oltre ad applicare le procedure aziendali che abbiamo proprio mi piace interloquire sia col paziente che con i familiari mi piace telefonare il medico di medicina generale per coinvolgerlo nella scelta decisionale del suo paziente credo fermamente alla fine vita a casa nel proprio letto e mi spendo per questo purtroppo la cultura l'attuale cultura ci porta a non accettare più la morte a casa come un fatto naturale però penso che si possa cambiare e ci credo e io ci credo molto e spingo molto su questo i presidi ospedalieri sempre più vicini alle persone che hanno bisogno siamo anche strutture oltre che sanitarie esatto io non penso che sia il luogo giusto io penso che un presente anziano ma poi non solo perché purtroppo non muoiono solo gli anziani muoiono tante persone i figli e la famiglia gli faccio l'ultimo più bel regalo che possa fare pensare che non so sul letto o a casa propria possa arrivare un nipotino qualcuno che lo saluta una persona affettuosa la famiglia noi per quanto siamo buoni cari e tutto non siamo la famiglia non siamo il figlio non siamo la sorella facciamo una carezza ma non è la carezza di un familiare non vorrei entrare troppo nel personale dottoressa però proprio su questo punto ho letto e quindi un'informazione che ha diffuso lei stessa che dei suoi tre figli due studiano medicina e quindi deve aver trasmesso proprio un amore grande per questo lavoro l'amore c'è stato l'amore è stato grande penso di sì una volta mia figlia grande mi ha detto te mamma torni a casa sempre contenta forse qualcosa è passato d'altra parte si è anche risvolto d'altra parte della medaglia spesso mi recriminano che ho dedicato loro poco tempo poco tempo troppe cose da fare poco tempo e io dico ma volete mettere avere una mamma contenta e serena piuttosto che una mamma che magari poteva stare con voi arrabbiata e scontenta e infatti poi i due hanno fatto la stessa scelta della mamma della loro mamma sì 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 un'ultima cosa dottoressa perché siamo in chiusura il tempo il tempo vola e allora io ho visto un'intervista sua a una serata organizzata dal Sor Optimist al quale lei era stata invitata come come ospite parlando della dell'emergenza no della direzione del reparto del reparto covid alla domanda sulla paura lei ha risposto non c'è stato tempo per la paura ecco allora la caratteristica di un medico deve essere questa? questo non lo so diciamo che se un medico ha paura farà fatica fare il medico perché ogni atto che facciamo ci mette mette a rischio la vita di chi abbiamo davanti tutti gli atti diciamo che è stata un po' portata all'ennesima potenza questo aspetto durante l'epidemia covid ma nessuno di noi nessuno di quelli che hanno lavorato con me hanno mai avuto paura né di ammalarsi né di niente però noi facciamo cioè esercitiamo un lavoro dove la paura non può esserci non può stare con noi dobbiamo essere cauti quello sì dobbiamo dobbiamo essere rigorosi però non impauriti grazie la ringrazio molto dottoressa raffaella de giovanni primario dell'unità operativa di medicina interna di rimini e ha diretto il reparto covid flaminio buon lavoro dottoressa grazie grazie a tutti spero di poterla rinvitare nella prossima stagione di tutta salute le auguro di nuovo un buon lavoro grazie mille grazie a tutti buona serata buona serata anche a lei dottoressa finisce qui la puntata di questa sera io vi ringrazio sempre per l'attenzione ci vediamo la prossima settimana mi raccomando nel frattempo abbiate cura di voi grazie a tutti